C'è anche il contributo tutto aquilano del Grand Sasso Science Institute nell'ambito della missione spaziale Dampe che ha permesso di approfondire la conoscenza del fenomeno dei raggi cosmici, scoprendone anche alcune proprietà finora rimaste nell'ombra. Nel dettaglio è stato scoperto che il flusso continuo di particelle subatomiche che dallo spazio colpiscono la Terra, i raggi cosmici appunto, subisce una diminuzione più marcata del previsto quando si arriva un carico di energia di 10 tera elettronvolt. La misura diretta del fenomeno, prima assoluta nel suo genere, è stata effettuata grazie all'operato del satellite Dark Matter Particle Explorer, in italiano esploratore di particelle di materia oscura, apparato in orbita fin dal 2015. Al progetto Dampe, del quale all'Aquila si era parlato lo scorso dicembre durante un workshop dedicato, oltre che il Grand Sasso Science Institute stanno partecipando anche l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, l'Accademia Cinese delle Scienze e le Università di Ginevra, Perugia, Bari e del Salento, per un totale di un centinaio tra scienziati, tecnici e dottorandi. Il gruppo internazionale ha lavorato a stretto contatto in tutte le fasi della missione, dalla progettazione e costruzione dell'apparato, passando per i test la scrittura dei software, la raccolta dei dati e l'interpretazione dei risultati. Il gruppo attivo in seno al Grand Sasso Science Institute, coordinato dal professor Ivan Dimitri, è oggi impegnato nell'analisi di altri dati provenienti dal satellite Dampe, dati che nel prossimo futuro potrebbero essere utili per allargare l'indagine sui raggi cosmici e arrivare a ulteriori risultati.